le opere presentate da angelo pacifico per la mostra personale microspace ci offrono quattro viste sulla città originali ed accattivanti se da un lato infatti la città viene vista come un agglomerato urbano di mostri quasi spersonalizzanti che si estendono sia in verticale sia in orizzontale dall'altro pacifico evidenzia con forza l'invisibile presenza dell'uomo che abitando lo spazio urbano lo rende vivo il rapporto tra vita della città e vita dell'individuo è costante la presenza umana pur non essendo mai esplicita è evidente in tutte le opere a fianco del mostro di cemento sorge il luogo di ritrovo per eccellenza il bar che cromaticamente figurativamente aggiunge vitalità allo spazio opprimente che lo circonda oppure come nel caso del grattacielo che viene accudito e restaurato mentre sembra sanguinare l'artista interpreta le città del mondo e come nel caso di barcellona riesce a creare rapporti sinestesici tra colori e sensazioni per restituirci la propria lettura dello spazio urbano Grazie per la visione! Grazie! Grazie!